primo luglio 2019 sono a canino in un giovanissimo impianto di mandorlo però nonostante la sua giovane età la pianta si presenta bene sia come attività vegetativa ma soprattutto come risultati produttivi una pianta giovane ma molto molto carica siamo a canino e siamo con gli amici Bartoccini ciao a tutti tra l'altro li conosciamo perché abbiamo questo credo che sia il quarto video abbiamo fatto in vari momenti diciamo nel periodo invernale o durante la fioritura e adesso con con le fruttificazioni e allora vogliamo ricordare agli amici un po qualche dare qualche informazione sono sono piante di piante di avior quindi lauran trapiantate nel febbraio 2017 ci mettiamo un po a favore di luce così viene anche meglio il video bene quindi febbraio 2017 questo è il risultato porta innesto gf 677 sistema di gestione diciamo ricorda un po il sema saragozza con diversi topping che danno la possibilità di bloccare l'attività diciamo la forte spinta vegetativa e quindi di formare ramificazioni che poi portano a alle alle fruttificazioni va bene queste informazioni le daremo in occasione della visita prevista per il 26 luglio quindi ricordiamo un po gli amici 25 luglio convegno presso la sala conveni di montalto quindi e invece il 26 mattina gireremo ci saranno diverse tappe di visita e saremo anche qui presso la vostra azienda va bene ok a presto e grazie per da adesso per l'ospitalità ciao 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 ciao